Ciao e benvenuti al nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo sito che permette la creazione di giochi testuali. Andate sul sito che vedete qui, sulla barra, e potete comunque iniziare a giocare, perché all'interno della piattaforma sono presenti altri giochi già creati da altre persone, o si possono creare giochi ex novo, sono sempre dei giochi testuali, oppure fiction interattive. È gratuito, quindi open source sempre, ed effettivamente poi quelli che noi trattiamo, che sono sempre dei software comunque disponibili, e per poter giocare basta essere o installare l'estensione all'interno di Chrome, infatti io già l'ho fatto, l'ho installata, oppure praticamente essere un utente Microsoft, se non sbaglio. Si inizia e si può giocare subito, anche direttamente online, tramite l'estensione. E' molto carino, perché ci sono tantissimi giochi già creati, ma allo stesso tempo è molto semplice cararne di nuovi. Non ci vogliono tantissime conoscenze di programmazione, ma comunque quando una persona crea un gioco, imparerà sicuramente qualcosina anche a livello proprio di programmazione. Le licenze sono licenze MIT, quindi il codice si trova anche sulla piattaforma GitHub, e quindi, insomma, c'è tantissima possibilità di creare qualcosa di interessante, e come i software comunque liberi si possono probabilmente modificare. vedete qui che già lo dice, io lo sto vedendo in italiano perché ho installato un'estensione che mi permette di tradurla, però la pagina è questa di cui sarebbe in inglese. L'ho fatto in italiano per non avere il problema di tradurre bene e quindi magari di sbagliare qualcosa anche nell'interpretazione. Quindi è interessante e potete vedere, insomma, che è semplice da utilizzare. Ora vi faccio vedere quali sono i giochi che sono già presenti. Vedete che qui c'è la possibilità di giocare oppure di crearne uno nuovo. Vedete, questi sono già giochi che sono presenti. Infatti nel gioco sì che è testuale, quindi c'è il testo, ma oltre a questo c'è la possibilità di mettere dei suoni particolari e anche dell'immagine. Qua sono divisi per categorie, abbiamo la fantasy, comedy, horror, insomma, tutte le categorie possibili. Questi qua sono già giochi che si possono giocare, mentre per quanto riguarda la creazione vediamo dove ci porterà. Oltre al giocare e al creare c'è la possibilità di informarsi all'interno del forum. Come potete vedere l'estensione non è settata, quindi non è cliccata ed è il testo in inglese. Per esempio clicchiamo su Go, che è iniziare a creare un proprio gioco e qui ci rendirizza in una pagina dove ci dice il tipo di gioco, il tipo di lingua e tante cose da poter scegliere. Noi mettiamo qua prova, perché è una prova. Testo, ok, questo va benissimo. Mettiamo italiano, creare, vediamo che cosa ci dice. Game prova, create, start editing. Quindi vedete che comunque adesso qui ci sono tantissime cose da dover settare. Ah, qua ci possiamo scrivere l'autore, la versione, la data e la descrizione. Quindi sono tutte feature abbastanza semplici. Qui, siccome alcune cose non riesco a intuirle, clicco sulla mia estensione e vediamo se riesci a farlo. Mappa disegno grigio, insomma potremmo selezionare diverse opzioni. Display sicuramente è come visibile, insomma. Se vogliamo utilizzare lo standard, il retro, ah vedete che carino, il retro per esempio è molto interessante, come tipo i videogiochi vecchio stile. Il fonte, insomma ci permette di personalizzare diverse cose. Quindi poi l'interfaccia, poi il copione. Quindi certo, essendo per testuale possiamo aggiungere tantissime cose. Quando per esempio si entra in una stanza possiamo vedere, insomma, tante cose che possiamo settare. Ovvio che comunque un minimo di, se una persona ha delle conoscenze tecniche, è meglio perché è facilitato, rispetto magari a me che comunque si, qualcosina ma a livello programmazione no. E poi qui possiamo aggiungere alla camera, per esempio il giocatore, che è carino, interessante. Allora, queste sono le opzioni. Poi una volta che una crea tutto quello che deve fare, può tranquillissimamente pubblicare e il gioco è fatto. Comunque, questo ovvio non è come un video per farvi vedere come funziona la creazione del gioco. Mi metterò infatti il link sotto questo video che vi fa vedere invece proprio la creazione fatta dal sito ufficiale, insomma, da loro stessi. Quindi perché sono una comunità e quindi anche su YouTube è possibile trovarlo, il video. Ovvio che sarà tutto in inglese. Questo secondo me sono delle cose veramente interessanti che permettono di creare un gioco in fondo in pochissimo tempo, perché comunque per creare un gioco ci vogliono tantissime conoscenze e abilità. Questo qua è un facilitatore, scusate, ed è fantastico, insomma. Accelera tutto il processo che permetterà, insomma, la creazione di qualcosa di nostro oppure se non avete le conoscenze potete utilizzare i giochi presenti all'interno della piattaforma e quindi divertirvi nello stesso tempo. Qua vedete che ci sono tutti gli account sia di Facebook che di Twitter. È interessante ed è un progetto che è open source e quindi è libero. Con questo è tutto, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video.